La parola al presidente Giuseppe Zippo dell'Almanova. Presidente, alla vigilia della gara oggi è uscito un articolo dove espronava il gruppo a consolidare quanto di buono visto nell'ultimo mese. La risposta dei ragazzi è stata convincente, una prestazione superlativa. Un 3-0 che non lascia spazio ad altri commenti se non quello di approdire ancora le gesta di tutta la squadra. Sì, era quello che cercavamo. Ragazzi, Mario, quando si inizia a vincere, si inizia a salire su di classifica, si soffre di vertigini. Quindi è meglio ogni tanto riportarli con i piedi per terra perché ad oggi non abbiamo fatto assolutamente nulla. Ripeto, dobbiamo stare calmi, tranquilli. Anzi, io ne approfitto l'occasione anche per spegnere tutte le voci di mercato perché è una continuazione che ci affibbiano qualche giocatore. L'Albanova sia in entrata che in uscita, fino ad Acera non farà alcuna operazione. Dopo Acera si parlerà di mercato, anche perché siamo dentro con i tempi e quindi siamo tranquilli. La classifica, stando ai risultati che arrivano dagli altri campi, Acera, 19, Albanova, 15. Conferma l'equilibrio che sta in testa nelle primissime posizioni. L'importanza è la prossima gara. Ricordiamo che la squadra sarà impegnata mercoledì nel turno interno di Coppa contro la Forza e Coraggio, avversario ostico. Domenica in casa e poi ferrà due settimane sfida alla capolista al big match ad Acera. Ti aspetti ancora prestazioni degne dal nome brasonato come l'Albanova? Sì, sì. Diciamo che dopo un inizio di campionato un po' altanenante non solo per noi ma anche per altre squadre che sicuramente si ritroveranno alla fine lassù. Adesso la situazione si inizia man mano di lineando. La Cerrane è una di quelle squadre che chiaramente non si può nascondere, che è partita per fare un campionato a vigile così come il Casore, il Bagoli. Anche se io oggi dico che la squadra che più mi ha impressionato è il Cheano. Una squadra veramente che sa giocare a calcio. E' chiaro che poi queste sono parecchie squadre che sono costruite da zero quindi hanno bisogno di tempo per assemblarsi e per iniziare a giocare in un certo modo. Ripeto, questo è un campionato di prima che forse negli ultimi 5-6 anni di questa importanza non si era mai visto con tutte queste squadre come Chiaiano, Casore, Albanova, c'è di tutto in questa prima. Quindi per me questa è più di una promozione. Dobbiamo stare calmi, tranquilli, andare da Cerra, fare bene in queste partite e poi andare da Cerra a giocarci tutto per tutto. Abbiamo oggi l'Eurogollo di Agostino Cerullo, la storia dell'Albanova. D'applausi da Stendin Govescia. Poi quando segna il capitano lo sembra meglio di meno. E' sempre una gioia per tutti. Ha fatto un gol che dirà la bellezza che sicuramente ci ritroveremo in qualche sito amatoriale. Non è una siga di Sporteven. Ma sicuramente, per la bellezza è veramente una cosa... Io ripeto, voglio fare i complimenti a tutti perché oggi non era facile approcciare questa partita. Noi ci sta capitando di giocare sempre di domenica alle 3 con i risultati già acquisiti tutti e spesso e volte questo non è un vantaggio. Perché quando le due avversarie magari vincono tutte, sei costretto a vincere pure tu e quindi a cambiare la mentalità. Vi vedo, stiamo tranquilli, calmi, vogliamo abbassi. Questo è un camminato che secondo me si deciderà alla fine. Si deciderà nelle ultime 5-6 giornate. L'importante è non perdere terreno rispetto alle prime. Grazie. Prego. Ando, qui va? Ando, qui va?